Musica E' venerdì 31 gennaio, buongiorno, benvenuti al nostro Tg del Mattino. E' stata convocata per domani la riunione del Consiglio regionale tra gli argomenti in discussione la proposta di legge firmata dai presidenti Frattura e Niro per la modifica dello statuto che prevede tra l'altro la possibilità di nominare il quinto assessore. Sentiamo Giovanni Minicozzi. Come previsto dal vecchio statuto ancora in vigore, si terrà sabato 1 febbraio la seduta istituzionale obbligatoria del Consiglio regionale. Gli argomenti in discussione sono quelli in evasi lunedì scorso, ma la novità è rappresentata dall'iscrizione all'ultimo punto dell'ordine del giorno del disegno di legge targato Frattura Niro sulla modifica dello statuto già approvato in seconda lettura il 20 dicembre del 2012 e mai promulgato. Secondo i ben informati però appare improbabile che il punto venga discusso anche perché le contrapposizioni nel PD e nella maggioranza non agevolano l'approvazione del nuovo statuto che prevede tra l'altro la possibilità di nominare il quinto assessore nell'aggiunta regionale. Prima della promulgazione del nuovo statuto della regione Molise lo adeguiamo. In particolar modo è stata recepita il dispositivo per quanto riguarda la composizione dell'aggiunta, l'esecutivo regionale che non è più vincolante a quattro ma è stata recepita di fatti quella che è la norma prevista dal decreto dove prevede un quinto dei consiglieri assegnati per cui quello che sarà il calcolo del quinto poi vedrà il numero dei componenti dell'aggiunta e resta una discrezione del Presidente avere la possibilità di nominare un'aggiunta a due, a tre, a quattro, a cinque secondo quello che poi sono i numeri dei consiglieri assegnati. L'altra modifica un po' più di carattere di importanza riguarda il potere regolamentare che è stato disciplinato meglio rispetto all'altra legge. Poi qualche altro accorgimento è veramente e puramente di carattere tecnico proprio per recepire anche le indicazioni che sono venute dal nostro servizio legislativo che ha approfondito la materia proprio in attuazione delle nuove norme di carattere nazionale. Quali saranno i tempi per la prima lettura? I tempi è scritto all'ordine del giorno, non so, credo che dobbiamo affrontare l'ordine del giorno e vediamo in aula quali possono essere i tempi. Io mi auguro il più in fretta possibile dovendo comunque procedere poi in caso contrario alla promulgazione di quello precedente. Quando scadono i tempi per promulgare lo Stato del Presidente eventualmente? Stando all'indicazione del parere dell'Avvocatura dovrebbero scadere tra il 22 e il 23 marzo. Si parlerà ancora di sanità con particolare riferimento agli ospedali minori e all'integrazione Cardarelli-Fondazione Giovanni Paolo II nella puntata di Moby Dick in onda questa sera in diretta a partire dalle 21. Ospiti di Giovanni Minicozzi saranno il direttore generale dell'ASREM, Angelo Percopo, il presidente del comitato proveneziale di Isernia, Marco Condidorio, il primario dell'unità complessa di diabetologia Antimo Aiello, i sindacalisti Tecla Boccardo della Will Sanità e Carmine Vasile della Fialz e la consigliera comunale di Campobasso di Città di Noi Adriana Itzi. Ci sarà anche Pardo Spina del comitato Provietri. È previsto anche il contributo esterno dei senatori Ulisse Di Giacomo e Giuseppe Astore e del presidente dell'Ordine dei Medici, Gennaro Barone. All'Istituto di Istruzione Superiore Cuoco Fascitelli di Isernia si è svolto il primo incontro della Guardia di Finanza con gli studenti per parlare di cultura della legalità economica in occasione della seconda edizione del progetto Educazione alla legalità economica. È un'iniziativa finalizzata a promuovere un programma di attività a favore degli studenti della scuola primaria e secondaria. A breve avranno luogo ulteriori incontri presso altri istituti scolastici di Isernia e della provincia. Sono 41 i nuovi volontari della Croce Rossa italiana che hanno ricevuto nella sala del comune di Campobasso gli attestati di qualifica dopo aver partecipato al corso di formazione. Sentiamo. Sono soprattutto giovani di Campobasso e qualcuno dell'Interland e hanno partecipato al corso di formazione per volontari della Croce Rossa partito a novembre in tutto 41 che hanno ricevuto gli attestati di qualifica in una cerimonia al comune del capoluogo. A fare gli onori di casa il sindaco Luigi Di Bartolomeo che è l'autorità cittadina di protezione civile. C'era il vice sindaco Giuseppe Cimino e il presidente del comitato provinciale della Croce Rossa di Campobasso Giuseppe Alabastro. È un processo formativo che oggi trova la conclusione del primo step dei nuovi volontari della Croce Rossa che sono a disposizione della comunità di Campobasso ma dell'interritorio nazionale e internazionale. I nostri volontari sono stati formati secondo i protocolli della Croce Rossa e del sistema sanitario nazionale ed internazionale. Sono pronti a operare nel settore delle emergenze, emergenze sanitarie, e emergenze di protezione civile. Sono dei validi operatori che noi oggi con l'ausilio del sindaco premiamo con il loro attestato meritato dopo numerose prove. Questo è il volto di Campobasso che mi piace vedere, ha detto Di Bartolomeo, rivolgendosi ai 41 nuovi volontari della Croce Rossa che ora sono abilitati al primo soccorso e a disposizione per le emergenze. Sono pronti perché sono stati già formati, hanno fatto un tirocinio che è durato circa due mesi e hanno superato tutti gli step formativi. È tutto per la nostra informazione, adesso spazio alla rassegna stampa. Partiamo con il giornale del Molise.it, vertenza ITR dal tavolo ministeriale via libera a un altro anno di cassa integrazione. Questo il titolo dopo una giornata di trattativa è l'unico dato certo che arriva dal tavolo romano e che per l'ITR si profila un altro anno di cassa integrazione. Per il resto si attendono dal giudice le notizie relative alla richiesta di concordato preventivo. Le altre notizie del giornale del Molise.it, Termoli, San Vittore, buone notizie dal Ministero dei Trasporti. Disponibili fondi per la realizzazione dell'autostrada. Paralisi della giustizia, riapriamo il Tribunale di Termoli, è possibile. Campo Basso, rapina in banca da 40 mila euro, continuano le indagini. E poi Termoli, Nas, chiudono un centro massaggi cinese. Con guaglio Tares, il Comune predispone una commissione interna per verificare entità e cause dei disservizi. Campo Basso, questione Tares, per il consigliere Battista la tassa non doveva essere introdotta. Ci sono poi editoriali, idee e opinioni. Dove erano gli indignati? Di Domenico Dilisa, firma di Domenico Dilisa. Vediamo adesso primo piano Molise. Il Ministero dice sì all'area di crisi. Ieri al Ministero dello Sviluppo Economico il tavolo tecnico sull'ITR è concesso un altro anno di cassa integrazione straordinaria. Il patron bianchi diserta il vertice. Troppi dubbi sul futuro dell'azienda Delusi. I lavoratori. E poi il fatto di sangue, freddato a colpi di pistola, sconcerto a Santa Maria del Molise, Antonio Enrichiello, conosciuto come Ocinese, era nella sua auto. La pista è quella dell'agguato di Camorra. Venafro, fermata con la cocaina addosso, 34enne in manette, dopo l'arresto della giovane Puscher, attesi ulteriori sviluppi. Boiano in coma da 12 giorni. Gravissime le condizioni della 51enne. coinvolte in un incidente sulla statale 17. La donna è in rianimazione. Si spera in un miracolo. Palazzo Moffa, sanità sbilanciata sui privati. Mozione del centro-destra per correggere il tiro. L'opposizione chiede a Frattura di cambiare il piano. Poi c'è l'avvertenza precari della protezione civile. Solo 5 milioni per riassumerli. Esattorie sale la rabbia degli ex dipendenti Molise Entrate. È un grande blef. È il virgolettato. Poi Termoli, San Vittore. Ricompare l'autostrada nelle opere strategiche del governo Letta. Soddisfatto Nagni, ma occorre prudenza. Dice. Notizie dall'Abruzzo. Da vasto assalto armato al portavalori. Preso anche il settimo bandito. Faceva parte del commando. Per lo sport, Serie D, Isernia. Il colpo per l'attacco è Roberto Maffucci. In seconda categoria, arbitri aggrediti. Due calciatori squalificati per tre anni. Passiamo al quotidiano del Molise. Boccata d'ossigeno per l'ITR. Anche qui il titolo principale dedicato all'avvertenza dell'azienda Tessile di Pettoranello. Al tavolo interministeriale, concessi un anno di cassa integrazione, guadagni straordinari, è uno di mobilità per i lavoratori. La proprietà diserta l'incontro a Roma e Petrollini spiega assenti perché siamo in attesa del concordato. Autostrada, certezze dal Ministero, confermati 236 milioni di euro. Nanni occorre uno sforzo per mantenere i fondi. Protezione civile, a casa tutti i 210 precari, ha zerato il concorsone, ma in 60 sperano. a disposizione ci sono altri 5 milioni fino al 2018. San Giuliano di Puglia, indennizzi per il sisma, appello al Ministro. Il Sindaco di San Giuliano chiederà al Ministro Chiang di mediare. Termoli sigilli al centro massaggio a luci rosse, poi da Campobasso, grano OGM spacciato per biologico affari d'oro. Sempre dal capoluogo, Tares per pagare c'è tempo, stoppa le fastidiose file. ieri c'è stata la conferenza stampa con il Sindaco di Bartolomeo e l'assessore Toma. Venafro, cocaina nella borsa del trucco, arrestata una donna. Zuccherificio si tratta sullo sconto di un milione e mezzo di euro. Tira e molla fra aziende e bieticoltori che chiedono di entrare nel consiglio di amministrazione. Le notizie di sport, finale di Coppa, ieri il test a Trivento, 5 a 1 alle Aclisi, mobilita il tifo rosso-blu per il nuoto, idrosport da sballo al meeting Tanno-Croce di San Salvo. Il Sannio ITR è il Ministero dello Sviluppo Economico disponibile ad attivare l'area di crisi sindaci a Roma per lanciare l'avvertenza molise. Assenti vertici aziendali che preferiscono attendere il giudice intanto per i lavoratori è possibile la cassa integrazione guadagni straordinaria per un anno, quella ordinaria prolungata fino al 22 febbraio. Vediamo come titola la Gazzetta del Molise. Alla faccia della legge, Salvatore Di Pardo è illegale di Paolo Frattura, avvocato dei Patriciello, consulente della Regione, difende la sanità privata e avvocato dei magistrati, niente poco di meno che giudice tributario in Molise. L'Oscar del giorno, la Gazzetta del Molise lo assegna Massimo Romano, pur essendo rimasto fuori dal Consiglio regionale. Scrive il giovane avvocato, non ha appeso le scarpette del politico al chiodo, è l'unico che risponde al presidente Frattura, evidenziando i suoi conflitti di interesse, palesemente tornati alla ribalta con l'inchiesta sulla società Biocom, che ha portato il Molise sul Corriere della Sera. Il tapiro del giorno, la Gazzetta lo assegna ad Antonio Monaco, il sindaco di Capracotta, strano a dirsi, scrive, questa volta non ha indetto manifestazioni di protesta o bloccato strade in segno di protesta per la mancata apertura degli impianti di Monte Capraro. E poi c'è Patriciello e la sinistra, sembrava fosse amore e invece era un errore, a firma di Giovanna Ruggero è l'articolo. Le pagine interne del tempo con le notizie relative al Molise, marcia sul Roma dell'ITR prorogata alla Cassa Integrazione, i lavoratori stanchi di soluzioni tampone chiedono certezze, 200 persone al Ministero dove si decide il futuro dell'azienda. L'idea delle ACLI per rilanciare il territorio, Isernia e provincia, e poi San Giuliano di Puglia, la carica dei profughi, in arrivo 743 immigrati saranno ospitati nelle casette realizzate dopo il sisma e in altri 18 comuni della regione. Campobasso, niente sanzioni sulla Tares. Vediamo adesso le prime pagine dei quotidiani nazionali, partiamo con La Repubblica, Parlamento, la guerra di Grillo, i Cinque Stelle assediano la Camera, via all'impeachment contro Napolitano, bloccate le commissioni, ancora spintoni e ingiuri e la Boldrini si barrica in ufficio, primo sì alla riforma elettorale che oggi va in aula. C'è poi la giudiziaria Amanda e Raffaele stavolta è condanna il secondo appello, ribalta il verdetto sul delitto di Meredith, 28 anni e 6 mesi alla Knox, 25 anni a sollecito, ma per ora niente carcere. Vediamo adesso come titola il Corriere della Sera, cortei e insulti, camera nel caos, occupazioni dei Cinque Stelle, Boldrini accusa minacce inaccettabili, grillini ricorrono alla consulta dopo il voto sull'Imu e al Senato, chiedono l'impeachment per Napolitano, tolleranza zero per le offese di quei violenti, dice la Boldrini, e poi condannati per Amanda, pena più dura, ribaltata la sentenza d'assoluzione, 28 anni alla Knox, 25 a Raffaele, sollecito. Tensioni con Berna sul rientro dei capitali, accordo a maggio, forum mita lo Svizzero e i nodi da sciogliere. Dal Corriere della Sera passiamo al tempo, ecco i paperoni che non soffrono la crisi, le buste paga dei manager, le dichiarazioni dei redditi dei vertici delle aziende pubbliche, prima puntata del dossier di Palazzo Chigi, c'è chi arriva a guadagnare un milione al mese. E poi il murale se piace al Papa e Marino lo sbianchetta, i residenti di Borgo a Roma si oppongono alla rimozione, poi i pulitori del lama arrivano con la polizia. il sole 24 ore il quotidiano economico fisco al via l'operazione rientro dei capitali, befera l'agenzia già in campo pronti i modelli, le indicazioni delle entrate alla 23esima edizione di Telefisco in collegamento con 110 sedi. E poi c'è l'appello di Squinzi per Electrolux dal governo troppi ritardi sull'industria, si rischia un deserto lettera a letta l'avvertenza denuncia la necessità di una forte azione in difesa della manifattura. Andiamo come titola il giornale Napolitano che botta presidente di parte scrive il suo governo è morto il suo Parlamento è un bivacco e arriva pure lo schiaffo dell'impeachment non passerà ma è una triste fine per un arbitro giocatore che pensava di entrare nella storia scrive ancora il giornale risse show alla camera grillini violenti per parare l'asse Berlusconi Renzi e c'è questa foto dal giornale passiamo all'unità Grillo guerra alle istituzioni spintoni insulti blitz una giornata di ordinaria follia 5 stelle la presidenza della camera costretta a chiudere gli uffici poi l'impeachment contro Napolitano il capo benedice guerrieri meravigliosi dice Beppe Grillo Franceschini in gioco c'è la democrazia dice poi lavoro e industria oraletta accelera dall'unità passiamo a libero camera a 5 stelle grillini senza freni anche qui questo titolo urla spintoni botte offese sessuali deputati di Grillo prendono d'assalto il Parlamento e la certificazione del loro fallimento non toccano palla e fanno casino per far vedere che esistono scrive ancora Libero Pisapia vuol cacciare il Milan da Milano il codice etico dei talebani arancioni è l'articolo a firma di Michela Ravalico vediamo come titola adesso il manifesto Autogol c'è la foto di Grillo e di Casaleggio il Parlamento come la piazza l'impeachment come un volantino le battaglie del Movimento 5 Stelle finiscono in Gazzarra con il risultato di schiacciare in difesa anche le altre forze di opposizione e Grillo fa da specchio al PD nel rimpallo delle accuse di fascismo oggi primo voto sulla legge elettorale il mattino di Napoli Amanda e Raffaele condanna sugli indizi dopo 12 ore di Camera di Consiglio l'appello bis ribalta la sentenza 28 anni all'americana per l'ex fidanzato 25 anni e divieto di espatrio avvenire il quotidiano dei Vesco il Movimento 5 Stelle attacco ai palazzi grillini vogliono fermare la camera incidenti e insulti impeachment per Napolitano io sereno clima cupo dice il capo dello Stato giornata convulsa Montecitorio con i 5 Stelle scatenati in aula e nelle commissioni Boldrini costretta a chiudersi in ufficio fatto vergognoso dice il Quirinale preoccupati per la violenza la gazzetta del mezzogiorno adesso i grillini allo scontro totale anche qui questo titolo e poi Amanda e Raffaele pena di 28 e 25 anni lui dice sono annichilito la stampa di Torino Renzi grillini squadristi parla il segretario democratico sono da codice penale dice e le sue deputate denunciano De Rosa per le offese sessiste il messaggero grillini caos alla camera e guerra a Napolitano aula occupata insulti e denunce chiesto l'impeachment per il colle la replica sereno temo le violenze e poi c'è questo approfondimento errore in agguato evitare alibi all'escalation di Giovanni Sabatucci la gazzetta dello sport Osvaldo c'è Juve e adesso chi ti ferma mercato questa sera alle 23 la chiusura l'attaccante Osvaldo arriva in prestito dal Southampton riscatto fissato a 18 milioni Vucinic dice no al Valencia l'Inter potrebbe rifarsi sotto e Marotta controlla Guarin poi c'è il colpo nero azzurro il colpo dell'Inter Hernanes nel pianto per dal pianto per salutare la Lazio all'accordo con l'Inter il brasiliano in lacrime a Formello mentre i tifosi contestano la società tutto pronto per le visite costo 15 milioni firma fino al 2018 debutto a Torino in arrivo il peruviano Polo e poi il Milan vuole Biabiani trattative nella notte con la gazzetta dello sport termina la nostra rassegna stampa prossimo appuntamento con l'informazione di Telemolisa alle 14 in diretta con il Telegiornale grazie per averci seguito buona giornata a tutti di Telemolisa 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 di Telemolisa